Sono 16.02 del 22, non è praticamente 22, mi trovo qui al mio terreno, esatto, e siamo ai piedi del Monte Penna, area ecologica, città Ancizia del VI IV secolo a.C. Lì sopra c'è il cimitero, più precisamente la chiesa di Santa Maria delle Grazie, e qui autotreno in transito, ecco qui, auto articolato, auto articolato, auto snodato in transito, ecco qui, procede con prudenza, bravo, adesso c'è il transito di un'altra auto, necessariamente devono procedere con prudenza perché qua la strada è in parte, c'è un po' di acqua e quindi per la sicurezza di sempre, come c'è, ecco qui, c'è un gasso a leggepossa, ammiriamo, bello sto panorama, ecco, vado articolato lontano, l'aria puissance e ho fatto una vita da bracciante agricolo, quanti giorni ho lavorato con l'acqua, non necessariamente, mesi invernale, mesi invernale, quando è piove si lavora in campagna, ecco, due auto, procedono con moderazione, vedete, vedete,